In questa video lezione noi tratteremo ancora delle figure retoriche di significato, ma questa volta ci occuperemo di tutte quelle altre figure delle quali non ci siamo occupati nella prima parte di questa video lezione, e cioè in un altro video nel quale ci siamo concentrati su quelli che si chiamano i tropi, cioè la metafora, la metonimia, la sineddoca, l'analogia e figure simili. In questa video lezione invece tratteremo di tutte le altre e in particolare parleremo di ossimoro, di antitesi, di sinestesia, di iperbole, di ritote, di personificazione, di apostrofe e di perifrasi, ma ci occuperemo anche di reticenza, di preterizione, di ellissi, di eufemismo, di adiunaton e in diadi, i pallage e antonomasia. Cominciamo. Cominciamo dall'ossimoro. Cominciamo sempre da un esempio. Oscura chiarità. Ci rendiamo conto che questi due termini sono in contraddizione logica. Il primo richiama qualcosa di buio, il secondo esattamente l'opposto. Così come anche questi altro, questi due versi di una poesia di Pascoli, è l'estate fredda dei morti. Evidentemente il concetto di estate ci richiama il caldo, mentre fredda naturalmente è rapportato ai morti. Quindi l'accostamento dei termini estate fredda crea qualche contraddizione, almeno a livello logico. E allora andiamo a definire l'ossimoro come quella figura retorica nella quale è possibile associare nella stessa espressione, quindi termini connessi da un punto di vista grammaticale, per esempio sostantivo e aggettivo, parole di significato opposto. Altrimenti rischiamo di avere un'altra figura retorica che è l'antitesi di cui ci occuperemo tra poco. E andiamo appunto all'antitesi. Leggiamo sempre l'esempio. Di fuor si vede com'io dentro avampi. Come vedete qui abbiamo due termini lontani, non si trova nella stessa espressione, legati grammaticalmente l'uno all'altro. E pure quest'altro verso di una poesia di Petrarca, pace non trova e non ho da far guerra. Addirittura due termini in contraddizione, pace e guerra, si trovano agli antipodi del verso. E allora possiamo definire l'antitesi come l'accostamento e contrapposizione di due parole o di intere frasi di senso opposto. Quindi è chiara la differenza con lo simono. Nello simono abbiamo una contrapposizione all'interno della stessa espressione, cioè di un'espressione in cui ci sono dei termini grammaticalmente connessi. Qui invece abbiamo una contrapposizione più generale all'interno di un verso o di una frase. Andiamo a definire che cos'è la sinestesia. Allora leggiamo l'esempio voci di tenebra azzurra. Ci rendiamo conto come ci siano in questo verso una serie di elementi che richiamano ai nostri sensi. Le voci appunto per quanto riguarda l'udito, azzurro ovviamente per quanto riguarda gli occhi, quindi la nostra capacità visiva come anche tenebra in qualche modo ci richiama a un contesto evidentemente visivo. E allora andiamo a vedere un'altra frase. Ci sono profumi freschi come carni infantili. Anche in questo verso abbiamo due termini profumi e freschi che richiamano il profumo alla sfera olfattiva e freschi alla sfera tattile. Possiamo a questo punto dare la definizione di sinestesia. Si ha la sinestesia quando noi associamo elementi che appartengono a sfere sensoriali diverse. Andiamo a vedere che cos'è l'iperbole. Mille volte sono stato così solo. Oppure ho sceso d'antro il braccio almeno un milione di scale. Un verso famosissimo di una poesia di Montale. Evidentemente nel primo caso, un testo di Pasolini, non è che Pasolini abbia contato tutte le volte in cui è stato solo, arrivato a mille ha scritto il verso. Così come nel secondo caso Montale non è che ha enumerato tutte le scale che ha sceso insieme con la moglie Drusilla Tansi, ma mille volte milioni di scale sono appunto dei termini esagerati probabilmente. E allora possiamo definire l'iperbole come quella figura retorica che serve per esprimere un concetto attraverso termini eccessivi, clamorosamente esagerati. Andiamo a vedere invece ora la litote. Partiamo sempre da un esempio. Anch'io mi muovo tra cose non nuove. Vediamo che nella parte finale di questo verso c'è una qualcosa di particolare, cioè l'autore non ha detto tra cose vecchie, ma ha usato un paio di termini, nel posto di uno ne ha usati due, ma questi due termini nuovi, un avverbio e un aggettivo, non nuove, di fatto vanno a indicare un altro elemento che vuol dire cose vecchie. Don Abbondio, il lettore se ne è già accorto, non era nato con un cuor di leone. Ecco, ci rendiamo conto anche in questo caso che Manzoni non dice che Don Abbondio aveva un cuore di un animale pavido e timoroso, ma usando la negazione, quindi non aveva un cuore di leone, ci dice che appunto era una persona pavida. Ecco, vediamo che quindi il meccanismo che troviamo in questa frase è identico il meccanismo che abbiamo visto nel primo esempio e quindi possiamo allora affermare che la litote è sia quando un concetto viene indicato attraverso la negazione del suo opposto. Ritorniamo sugli esempi, invece di dire cose vecchie, il poeta ha detto cose non nuove, invece di dire che Don Abbondio era un codardo, Manzoni dice che non era nato con un cuore di leone, cioè non aveva un cuore di leone. E ora andiamo a vedere la figura retorica della personificazione. Partiamo da un esempio. Avarizia leggente appreso all'amo. Evidentemente qui abbiamo un'avarizia che fa un'operazione tipica di una persona perché prende all'amo queste genti e questo ci permette di concentrare la nostra attenzione sul termine avarizia e di poter definire avarizia una personificazione. Quindi che cos'è allora la personificazione? L'attribuzione di qualità e caratteristiche umane a cose inanimate, ad animali oppure, come nel nostro caso, a concetti astratti. E ora andiamo a vedere la figura retorica dell'apostrofe. Straniere genti, l'ossa mia rendete allora il petto della madre mesta. Così si rivolgeva Foscolo a chi? Alle genti straniere. E quindi possiamo dire che l'apostrofe consiste in quella figura retorica nella quale l'autore si rivolge direttamente all'interlocutore, che può essere una persona reale o immaginaria, un concetto astratto, il lettore stesso, oppure anche un qualcosa completamente inventato. La perifrasi, la gloria di colui che tutto muove, celebre verso dantesco del primo canto del Paradiso e la nostra attenzione è riportata nella parte finale del verso, cioè colui che tutto muove, chi è colui che tutto muove? Ecco, sarebbe Dio. E allora possiamo dire che colui che tutto muove è una perifrasi, cioè è quella figura retorica che si utilizza quando io uso un giro di parole per sostituire un unico termine. Ecco, colui che tutto muove e diventa Dio. Vediamo ora la reticenza. E questo padre Cristoforo so da certi ragguagli che è un uomo che non ha tutta quella prudenza, tutti quei riguardi. Sono le famose parole che il conte zio rivolge al padre provinciale. Conte zio vuole fare in modo che padre Cristoforo sia allontanato dal luogo di Pescarenico, che non dia più fastidio al nipote Don Rodrigo, però non lo può dire direttamente. E allora questo capitolo che è ricchissimo di puntini sospensivi, il conte zio cerca di far capire che il padre Cristoforo non è una persona gradita. E allora non lo può dire, abbiamo detto direttamente, ma lo fa capire benissimo. Tanto è vero che poi il padre provinciale anche per quieto vivere lo sposta. E allora questi tre puntini sono una figura retorica, si chiama reticenza e consiste nell'interruzione di una frase o di un verso che non comunica così l'informazione in modo completo, lasciando però intuire il contenuto. Ecco, tutti quei riguardi, la frase è lasciata a metà sospesa, ma noi abbiamo capito che cosa intendesse il conte zio. Vediamo la preterizione. Cesare taccio che per ogni pioggia fece l'erbe sanguigne, verso di Petrarca nel quale il poeta dice di tacere, ma poi alla fine il concetto lo esprime, perché si pone come obiettivo quello di non parlare, eppure noi sappiamo, insomma ce lo racconta immediatamente dopo, che vorrebbe tacere le imprese funeste di Cesare e invece poi ce le comunica, nel senso che ha fatto tingere tanti luoghi di sangue, quindi tanti territori sono stati macchiati dal sangue fatto versare da Cesare. Come si chiama questa figura retorica, appunto, che pur promettendo di non dire dice? Si chiama preterizione e allora andiamo a dare la definizione con preterizione, noi intendiamo quella figura retorica nella quale si nega di dire qualcosa, nel nostro esempio taccio, ma di fatto poi lo si afferma comunque, ecco, tanto è vero che il poeta ci dice che cosa ha fatto Cesare, anche se in effetti si era proposto l'obiettivo di non dire. Andiamo a vedere ora le lissi, silenzio intorno, ecco, qui presso solo la prima parte di questo verso, in questo verso chiaramente manca qualcosa, manca il verbo essere. Certo, è abbastanza semplice capire che manchi qualcosa e che quello che manca è proprio il verbo essere e quindi quando appunto non è necessario aggiungere qualcosa che è facilmente intuibile, soprattutto quando ci troviamo in poesia e quindi conta molto il numero di sillabe che usiamo per far rientrare quel verso in quel determinato metro, eccetera, ecco, a questo punto noi usiamo le lissi. Allora le lissi che cos'è? Le lissi è l'omissione all'interno di un verso di uno o più termini che possono essere facilmente sottointesi. Ecco, in questo caso facilmente noi possiamo capire che c'è il verbo essere sottointeso. Le lissi non è un procedimento solo poetico, questi figuratori che si trovano anche nella prosa, però di fatto nella poesia è importante, è fondamentale, perché abbiamo detto in poesia ogni termine che aggiungi sono sempre delle sillabe che devi contare, quindi alla fine potresti non trovarti più con il calcolo finale se hai deciso di usare quel tipo di verso. Ed ora andiamo a vedere un'altra figura retorica, l'eufemismo. Figure retoriche troviamo anche nella prosa, non solo nella poesia. Per esempio, passare a miglior vita evidentemente è un'espressione che usiamo per evitare di dire una parola che potrebbe suonare in maniera un po' sconveniente, come morire, e quindi possiamo definire l'eufemismo come quella figura retorica nella quale una perifrasi, cioè un giro di parole, viene utilizzata per attenuare un termine sgradevole oppure sostituirlo, perché questo termine è spiacevole. Andiamo ora a vedere la di una tonna. Pasceranno prima gli agili cervi nell'etere che dal mio petto il volto di lui si cancelli. Un famoso verso virgiliano nel quale il poeta dice che il volto di questa persona lui cara si cancellerà dal suo petto solo se e solo quando, anzi, i cervi pasceranno nell'aria. Naturalmente noi ci rendiamo conto che i cervi, per quanto agili, possano gironzolare, appunto pascolare nell'aria così liberamente. E allora ci troviamo di fronte a una sorta di cortocircuito logico, cioè riteniamo che questa situazione, cioè cervi, che pascolano nell'aria sia una cosa impossibile. E allora andiamo a vedere che cos'è la diunaton. La diunaton è una figura retorica con la quale affermare l'impossibilità che una cosa avvenga, nel nostro caso che dal mio petto il volto di lui si cancelli, cioè l'impossibilità di cancellare il ricordo di questa persona, subordinando l'avverarsi, cioè il fatto che io mi possa dimenticare di lui, ad un evento ritenuto impossibile, e cioè il fatto che cervi agili possono pascolare liberamente nell'etere. Quindi, di fatto, nel adunaton c'è questa impossibilità che qualcosa avvenga, utilizzando appunto questo meccanismo, dimostrando che questa cosa avverrà solo se succedono cose impossibili, da un punto di vista, possiamo dire, scientifico, almeno da quello che può essere la nostra logica. Andiamo a vedere l'Indiadi, spesso usata da Petrarca, ma non solo da lui. Muove silvecchiare il canuto e bianco. Ecco, evidentemente qui abbiamo due aggettivi, canuto e bianco, che fanno riferimento a uno stesso concetto. Il poeta, invece di dire un concetto, ne dice due, quindi Indiadi, quindi raddoppia il concetto stesso. Infatti, questi due termini, di fatto, vanno a specificare meglio il vecchiarello, ma una caratteristica specifica del vecchiarello, cioè i capelli bianchi, e quindi questo biancore dei capelli, che viene ripetuto, appunto, raddoppiato con due aggettivi. Il primo, appunto, la canizia, quindi canuto, e il secondo, il colore dei capelli stessi. E allora possiamo definire l'Indiadi come lo sdoppiamento di un concetto in due termini di significato a fine, come Solet, Pensoso, per esempio, per fare un altro esempio, sempre di tratto da Petrarca. Andiamo ora a vedere l'ipallage. Di foglie un cadere fragile. Verso veramente straordinario. Noi concentriamo attenzione su questa parola, fragile. Grammaticalmente fragile si riferisce al cadere, a questo infinito sostantivato, con un davanti, con l'articolo indeterminativo davanti. Ma noi stessi ci rendiamo conto che se grammaticalmente fragile come aggettivo è collegato al nome, all'infinito sostantivato, cadere, evidentemente il fragile non è nella caduta, ma nelle foglie. E quindi questa figura retorica, questa situazione, ci dice che ci troviamo di fronte a una figura retorica che si chiama ipallage. Andiamo a dare la definizione di ipallage. L'ipallage è una figura retorica che consiste nel riferire grammaticalmente ad una parte del discorso un termine diverso da quello a cui si riferisce logicamente. Fragile si riferisce grammaticalmente a cadere, ma di fatto la fragilità è delle foglie, quindi logicamente la fragilità non è del cadere, ma appartiene alle foglie. E andiamo a vedere l'antonomasia. Il ghibellin fuggiasco per antonomasia è Dante, ma di ieri. Ecco, quindi l'antonomasia possiamo definirla come quella figura retorica che consiste nel sostituire il nome comune o una perifrasi con un nome proprio e viceversa. Quindi Dante per ghibellin fuggiasco o meglio in questo caso ghibellin fuggiasco per Dante. E così per esempio la città celeste per antonomasia è il paradiso.